Bullo centra la seconda vittoria sulla panchina del Campobasso. 8 i punti conseguiti dal tecnico siciliano come i gol visti a Selvapiana tra i Rosso Blu ed il San Nicolò. 10 come i gol fatti da Miani in campionato autore di una tripletta ma anche 10 come le vittorie sagionali dei Rosso Blu. Uno spettatore neutrale si sarebbe divertito tantissimo nell'assistere a Campobasso San Nicolò finita 5 a 3 per il Rosso Blu. Tira un vento gelido che taglia i pochi e infreddoliti spettatori di Selvapiana circa 800 le presenze. Nella curva Scorrano campeggia uno striscione. Fa più danni un cattivo politico che 100 tifosi con una birra. Appena 5 minuti per il vantaggio abruzzese. Pasticcio di Marinucci. La palla è recuperata da Santoni che fa partire il sinistro violento. La palla è contro la traversa. Un rimpallo favorisce la palla giusta colpita di testa da Valim sotto rete. È 1 a 0 per il San Nicolò. La reazione rosso-blu è immediata. Al nono è già 1 a 1. Punizione di Vitone. Controllo di Di Gennaro sulla linea dei difensori abruzzesi e battuta a rete dell'attaccante di Vullo. Reiterate le proteste terramane per un presunto controllo di braccio di Di Gennaro. Dalle primissime battute si capisce che sarà una gara scoppietante. La riprova al quarto d'ora quando Gabrielli incocce il palo di testa in tuffo. Conti trema ma si salva. Un minuto dopo Valim scarica un destro al veleno. La palla esce di poco a lato. Le due squadre giocano in un fazzoletto di terra e danno vita a una bellissima partita. Al venticinquesimo Minadeo Pennella. Miani si tuffa ma fallisce a pochi passi dalla porta. Forse era pure offside. Sul ribaltamento di fronte Bartolini cerca la porta ma manca quella precisione giusta. Al ventottesimo riecco avanti gli ospiti. Dorazio crossa. Rimpallo traditore per Conti che difetta l'intervento. Bartolini in sacca da zero metri. San Nicolò 2. Campobasso 1. Repentina. La risposta rosso-blu al trentaduesimo angolo sporcato in rete da Miani. Esultanza dell'attaccante romano per il suo ottavo centro stagionale. I lupi rimettono le cose subito in riga. La gioia di casa dura il tempo di un amen. Al trentottesimo chiacchiarelli a sinistra ha il tempo di cambiare piede e tirare. Conti commette la frittata. Quasi non ci si crede ma il San Nicolò è avanti per la terza volta in 38 minuti. Finisce senza recupero. Il primo tempo è con un parziale tutto sommato giusto. Vulo comanda subito di smettere la tutta Fusaro e Giovannisci. In effetti entrano questi due al posto di Marinucci che aveva mal di schiena e Dragone. Giovannisci insidioso dopo due minuti ma Digifico alza benissimo sopra la traversa. Approccio giusto alla ripresa da parte Campobassana. L'ottavo taglio perfetto di Todino. In sacca Miani. Il gol è davvero spettacolare. È 3 a 3. Nessuna possibilità di parata per Digifico. Il lupo di Vullo non è mai domo. Il più attivo dei suoi Todino. Al ventesimo semina lo scompiglio nell'area abruzzese con un diagonale su cui nessuno è bravo a intervenire con puntualità. Un minuto dopo per il tiro al volo di Stivaletta. Tuffo di Conti. Palla fuori. Il San Nicolò vive una prima fase della ripresa da incubo. Poi si ristabilisce un certo equilibrio in campo. Il Campobasso vuole legittimamente la vittoria. La ripresa denota l'insistenza dei ragazzi di Vullo. Il break abruzzese è alla mezz'ora con il diagonale di Chiacchiarelli che è deviato in angolo da Conti. Un minuto dopo Valin disturba Conti. Al momento del rinvio il signor Tolve di Salerno lo espelle ma lo stesso sette abruzzese mostra più di una resistenza. Prima di andare a fare la doccia anzitempo al trentatresimo azione svelta dei Rosso Blu. La discesa è condotta da Fusaro che probabilmente intenzionato a crossare trova il gol che vale il sorpasso agli abruzzesi. Esplode Selva Piana e Lupi sono in vantaggio dopo una partita straordinaria dal punto di vista del carattere. Nel campo basso poi esce Di Gennaro ed entra Fazio. Il campo basso chiude i conti. Al trentottesimo nasce una mischia, due passi da digifico e risolta con successo Damiani, tripletta incredibile dell'attaccante Rosso Blu che mette la terza firma personale sull'incontro. Al quarantunesimo risposta abruzzese con la girata ravvicinata di Gabrielli bloccata da Conti. Al quarantatresimo pallone smistato da Todino, deviazione di Petronio e per poco non ci scappa pure il sesto gol. Al quarantaseiesimo palla messa in mezzo da Giovannisci. Il tiro di Todino non è perfetto. Digifico fa sua la sfera. Rammarico per il San Nicolò. Il campo basso dimostra gran carattere e guarda avanti con fiducia. Giochi fermi. Domenica prossima.